Temptation Winter 2023-2024, scelta l'inaspettata conduttrice La prossima stagione tv sarà ricca di novità In primis, l'arrivo su canale 5 di Temptation Winter, versione invernale del fortunatissimo Temptation Island E, stato Pier Silvio Berlusconi ad annunciare questa grossa novità, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione Fino ad ora però, si sa poco o nulla su questo nuovo programma Anzi, non si sa nemmeno se davvero vedrà la luce Sembra che tutto sia ancora in fase embrionale La volontà di portare Temptation Winter sugli schermi di canale 5C Questo è già un buon punto di partenza Detto questo, viene da chiedersi chi potrebbe condurlo Potrebbe essere affidato a Filippo Bisciglia, visto e considerato, che il conduttore sa bene come funziona questo reality Filippo è molto amato dal pubblico, soprattutto quello che segue Temptation Sono ormai anni che tutti quanti non vediamo l'ora di sentire la sua frase calta Ho un video per te, dinnanzi al falò Detto questo, in casa Mediaset potrebbero però cambiare le carte in tavola Ed affidare la conduzione della versione invernale a qualcun altro Di questa opinione è il sito da Gospia, che qualche ora fa, ha riportato l'indiscrezione secondo cui Filippo rimarrà a condurre solo la versione estiva di Temptation Dunque, per lui, nessun falò in montagna Sempre secondo da Gospia, in lizza per condurre Temptation Winter Ci sarebbe un altro un nome molto caro a Maria De Filippi Stiamo parlando di Lorella Coccarini Sì, proprio la coach di Amici, sarebbe in pole position per guidare questa inedita versione invernale del reality delle tentazioni Come sappiamo, il programma è prodotto dalla fascino di Maria De Filippi Quindi, alla fine, sarà la nostra Queen Mary ad avere l'ultima parola Da considerare anche il rapporto di grande stima e affetto che lega Maria e Lorella Qualora la De Filippi le proponesse la conduzione di Temptation Winter, Lorella difficilmente dirà di no Ecco perché l'indiscrezione che vede la Coccarini come conduttrice della versione invernale Non è poi così campata in aria La prof di Amici è molto apprezzata nell'ambiente televisivo, non solo da Maria Basti pensare che la Rai, poche settimane fa, le aveva offerto di sostituire Serena Bortone nel pomeriggio di Rai 1 Lorella però ha rifiutato, preferendo rimanere alla corte di Maria De Filippi La Coccarini a quanto pare, sta bene dove sta Bisognerà solo capire se Lorella riuscirà a conciliare il ruolo di coach ad Amici, con l'impegno di Temptation Winter Come detto, siamo ancora nel campo delle ipotesi Quindi nulla è ancora detto E voi? Chi vorreste vedere alla conduzione di questa versione invernale? A voi i commenti Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti Ciao